buonasera a tutti buon pomeriggio benvenuti a questo secondo appuntamento del 2021 della serie di seminari online organizzati da eurodesk italy dal titolo distanti ma informati quindi quello che farò oggi perfetto vi darò un po di indicazioni un po di informazione in generale su tutto ciò che vuol dire il lavoro stagionale adesso quindi abbiamo un'oretta da utilizzare siamo subito parlando un po delle due novità perché questo webinar abbiamo fatto molto simile l'anno scorso sempre in questo periodo marzo ovviamente era ancora agli inizi del di quella che sarebbe stata poi la pandemia e dall'ora ad oggi sono cambiate in sostanza due cose una viene segnata qui in in rosso e come già detto anche giovanni non solo l'inghilterra si è tolta dal progetto erasmus e questa è effettivamente una grave perdita ma si è tolta anche la servizio euro perché non fa più parte della comunità europea quindi in sostanza il servizio euro che quello che andrò io a presentare per i quali io sono consulente sono consulente euro per la provincia monsebrianza praticamente la piantina che qui vedete a schermo è in sostanza sono i 27 non più 28 27 paesi che fanno parte della comunità europea in più partecipano al servizio euro salti tre paesi che sono l'islanda e la norvegia e il lichestein che è nello spazio tra la svizzera e l'austria che fanno parte dello spazio economico europeo e poi anche la svizzera che pur non essendo parte della comunità europea propriamente detta accordi bilaterali con tutti i paesi quindi anche la svizzera partecipa al servizio invece l'inghilterra come ben sapete il regno unito e non è più all'interno del a livello italiano siamo comunque circa 970 consulenti la rete è nata nel 1993 quindi abbiamo compiuto da poco i 25 anni di di attività quindi sicuramente è una è una cosa un traguardo importante come ho detto appunto ci sono questi paesi 27 paesi più i tre paesi dello spazio economico europeo e la svizzera diciamo subito che in questi paesi essendoci la libera circolazione di persone di capitali e di cose praticamente esige esiste il trattato di schengen quindi sostanzialmente si può andare in uno qualsiasi di questi paesi muniti solo di una carta d'identità e andare a cercare lavoro andare in vacanza andare a studiare ovviamente la svizzera proprio che non fa parte del della comunità europea è necessario in questo caso una volta che si trova lavoro avere un permesso di lavoro non permesso di soggiorno permesso di lavoro in questo caso può essere un permesso di lavoro di dimora di soggiorno oppure il frontaliere e lombardia dove io vivo io vi di como sostanzialmente è un molto molto conosciuto molto comune perché il frontaliere la classica persona che ogni giorno pur mantenendo la residenza in italia va in svizzera a lavorare e poi la sera torna torna indietro come diciamo dalla dalla sottolineatura sottoriportata a partire al primo gennaio 2021 il regno unito non è più e infatti e qui diciamo di iniziare subito parlando della brexit a tappe è avvenuto il tutto quindi è cominciato dal 31 gennaio 2020 poi praticamente si è arrivata alla definizione di quello che è la definizione e la risoluzione di quello che era un rischio cioè di un no deal quindi di una mancanza di accordo economico sociale o politico tra la comunità europea e l'inghilterra che è arrivata proprio alla fine del 2020 quasi verso natale e quindi ha portato a questa situazione per cui è confermata uscita del del regno unito dal dalla comunità europea però mantengono alcune caratteristiche tipo si può continuare a visitare il regno unito per un massimo di sei mesi senza richiedere un avviso un visto e si può partecipare una serie di attività tra cui il turismo studio brevi termini attività commerciali come eventi o conferenze però nel momento in cui si decide di andare a lavorare nel regno unito la situazione cambia allora si deve per forza richiedere un visto per lavori qualificati quindi skilled worker visa quindi questo viene io ho semplicemente sono adatto a prendere questa informazione sul sito di gov.uk è un sito fatto molto bene in cui si trovano tra l'altro anche in versione in italiano tutte le informazioni al riguardo per cui potrebbe essere interessante se qualcuno vuole comunque andare a lavorare in inghilterra ovviamente avere tutta questa serie di informazioni è chiaro che da un certo punto di vista vengono agevolati vengono preferiti quei lavoratori che decidono di richiedere il visto quelli che hanno comunque già delle esperienze professionali che possano portare che quindi poi possono essere tra virgolette sponsorizzate e quindi permettere l'ingresso in in inghilterra il secondo elemento che ha cambiato un po' dallo scorso anno abbiamo fatto l'ultimo webinar a oggi è ovviamente il covid per cui io mi sono permesso di mettere in un angolo a destra questo di elephant in the room che è una è una cosa che a me piace molto questo modo di fare che viene utilizzato molto dagli dagli anglosassoni cioè l'idea che esiste un elefante nella stanza quindi un argomento enorme grandissimo di cui tutti sono a conoscenza ma che nessuno vuole parlare quindi ogni volta che vedrete l'elefante nella stanza si riferisce al al cove lo uso come come pro memoria allora ovviamente le la complessità della situazione è tale per cui diventa difficile anche per me riuscire ad aggiornare su quelle che possono essere le restrizioni le quelle i paesi dove si può andare dove non si può andare dove ci sono delle condizioni particolari perché cambiano veramente da settimana a settimana io ho trovato e la porto alla vostra attenzione questa bella applicazione potete trovare mi sembra sia su android che su ios praticamente per cellulari per si chiama ri open eu delle informazioni sulla situazione di tutti i paesi membri della comunità europea quindi potrete trovare questo caso utilizzata non so al belgio oltre una mappa c'è la possibilità di vedere la possibilità di viaggiare è possibile andare ci sono restrizioni fa di vento qua sul belgio dice da un stato membro della comunità europea da un paese associato schengen posso entrare in questo paese senza essere soggetto a restrizioni straordinarie parzialmente e poi vi dà una definizione vi chiede se vi dà informazione anche sul fatto che magari necessario fare un tampone prima di partire o quando arrivate all'aeroporto a bruxelles eccetera quindi tutta una serie informazione secondo me molto utile e veramente aggiornata questa applicazione io l'ho scaricata sul mio cellulare settimana scorsa e praticamente l'aggiornamento era il 6 tra il 2021 quindi penso nell'arco di 24 massimo 48 ore avete tutti gli aggiornamenti secondo me può essere una cosa interessante io in questi casi consiglio sempre di fare un discorso del genere è inutile se qualcuno di voi ha intenzione di andare a fare un ha intenzione di andare a lavorare in un altro paese della comunità europea inutile guardare adesso qual è la situazione pandemica di quel paese meglio cominciare comunque a guardare quelle che possono essere offerte di lavoro e poi verificare come la situazione proprio perché come detto la situazione si evolve in continuo in qualsiasi momento la stessa situazione italiana e si evolve quindi gli altri paesi molte volte finiscono per adeguarsi a quello che è il peggioramento o il miglioramento delle condizioni in italia e ve lo dice uno che vive in lombardia quindi ne sa bene e sa molto al riguardo oppure se non volete utilizzare l'applicazione esiste sempre a livello di euro su questo your europe che praticamente è basato sullo stesso concetto quindi lo trovate all'interno del sito della comunità europea e ci sono tutte le le informazioni che potete avere sul discorso viaggiare i covi che quindi possono essere interessanti o che lasciando per un attimo stare l'elefante nella stanza lo proveremo ancora una volta perché alla fin fine non voglio deprimermi e deprimervi al riguardo quindi vediamo di parla di parlare di di qualcos'altro da un po anche il motivo per cui siamo tutti qua in questo webinar allora cominciamo dal definire cos'è EURES come già detto EURES appunto questo servizio della comunità europea che ha più di 25 anni che è definito e consta di due elementi il primo è il portale che adesso andremo a vedere e secondo appunto i consulenti che sono presenti in tutta Italia che voi potete assolutamente contattare per qualsiasi esigenza lui trova il numero del nome dei consulenti potete trovare su servizi EURES che è uno di quei pulsanti lì in alto su quella riga in alto dove appunto è scritto cosa EURES può fare per voi e trovate anche l'indirizzo dei consulenti secondo della regione della provincia eccetera ma soprattutto è il portale portale EURES a cui voi potete in cui voi potete entrare senza alcuna intermediazione anche da parte mia o di altri consulenti quindi assolutamente la navigazione è autonoma e vi permette appunto di vedere quello che sono ad oggi tutte le offerte di lavoro presenti all'interno della comunità europea quindi in sostanza il portale EURES fa anche da catalizzatore di tutte le offerte di lavoro che ci sono nei nei portali nazionali del lavoro dei singoli paesi per esempio in Italia abbiamo Ampal in Francia Bame Paul d'Emploi quindi centro per l'impiego francesi comunque ci sono tutti i portali che mandano le offerte di lavoro su questo portale che è il portale di EURES quindi veramente qui trovate di tutto ovviamente il portale aggiornata le ultime novità quindi comunque potete trovare anche informazioni su covid e così come non troverete più informazioni in merito all'Inghilterra al Regno Unito perché giustamente non fa più parte della comunità europea e come potete vedere sono presenti tantissime offerte di lavoro questa è una schermata che ho fatto sabato l'ho creata sabato questa presentazione potete trovare appunto sono presenti 2 milioni 737 mila 308 offerte di lavoro alcune di queste magari non riguardano specificatamente il discorso della mobilità transnazionale però ci sono davvero parecchie offerte esistono dei paesi in questo momento stanno andando abbastanza bene o bene dal punto di vista pandemico e ci sono dei paesi che invece vanno sicuramente meno bene quindi tra quelli che vanno bene un po li conosciamo tutti sappiamo che per esempio la Norvegia piuttosto che la Finlandia sono paesi che sono in una situazione di fortuna per n motivi che non sto qui adesso a definire magari ci sono invece paesi come appunto l'Italia la Germania o la Francia che invece si trova una situazione più drammatica però ognuno di questi paesi può comunque presentare delle offerte di lavoro anche a livello stagionale perché giustamente come ha detto prima giovanni la situazione attuale questa ma ovviamente tutti noi in cuor nostro speriamo che l'estate torni ad essere un po come quella d'anno scorso in cui c'era stato cioè l'effetto pandemico era andato a scemare e quindi come tale c'era stata la possibilità di muoverci di più e di andare anche in vacanza e quindi può essere che da questo punto di vista ci possano essere delle buone offerte di lavoro è chiaro che dobbiamo e dovete se vi interessa questo tipo di attività quindi lavoro stagionale all'estero dobbiamo come dire fare attenzione mantenerci aggiornati perché fino all'anno scorso e fino a due anni fa praticamente le ricerche di lavoro nella per quanto riguarda l'estate partivano a febbraio marzo perché alcune paesi della comunità europea vedi la grecia vedi cipro vedi malta sono paesi in cui l'estate arriva prima quindi la stagionalità le offerte di lavoro quale può essere per il cameriere piuttosto che per il barman piuttosto per un'altra mansione cominciavano essere richieste adesso addirittura alcuni casi si partiva anche a febbraio perché la stagione estiva è molto lunga cosa invece non succede in norvegia dove è molto più ristretta adesso come adesso ovviamente è tutto in divenire quindi qualcosa c'è ovviamente molto meno rispetto al passato però qualcosa c'è si può cominciare a guardare anzi da un certo punto di vista secondo me è lo dico sempre l'occasione adesso può essere interessante proprio perché permette a tutti noi di guardare un po come la situazione come funziona come il portale quali sono le ricerche le offerte di lavoro quali sono i paesi che in questo momento stanno cercando di più rispettate quindi potete comunque fare una scrematura della situazione attuale e capire quali sono i paesi magari che non certo punto di vista possono essere più interessanti rispetto ad altri a livello del portale euro se voi trovate ovviamente tutti quelli che sono queste icone questi pulsanti che trovate tutti i punti salienti quindi il discorso delle condizioni di vita lavoro il trovare un lavoro modificare o creare il proprio cv adesso li andremo a vedere quindi in sostanza potete fare una semplice ricerca andando a puntare a scrivere una parola chiave e poi aspettando di vedere quello che sono le soluzioni oppure si possono come fare un si può fare una ricerca avanzata sulla base del luogo voi preferite andare in un paese piuttosto un altro perché conoscete il francese piuttosto che il tedesco piuttosto che l'inglese quindi da quel punto di vista cambia potete vedere quello che noi chiamiamo i codici a teco cioè tanto per dirne una in questo caso sempre rimanendo il lavoro stagionale ci sono per esempio le professioni nei servizi alle persone e poi ci sono delle sottocategorie come i camerieri baristi i barrucchieri i cuochi eccetera eccetera gli accompagnatori o le guide e voi potete utilizzare è chiaro questo che nel momento in cui voi ricerca rinserite nella come parola chiave all'inizio una parola in inglese tipo waiter per dire il cameriere è chiaro che poi il sito andrà a cercare quella parola chiave ma solo quella cioè non fa la traduzione quindi se invece un'offerta di lavoro presenta camerieri in francese questo non va a beccarlo però se invece si va attraverso queste professioni queste professioni sono tradotte e le rispettive sottocategorie sono tradotte in tutte le lingue nel lavoro stagionale molte volte viene ovviamente certi hotel o certe strutture magari danno altri benefit quale può essere i pasti piuttosto che l'alloggio piuttosto che altre situazioni per cui può essere interessante anche da questo punto di vista e poi esiste il contrassegno eures cosa vuol dire contrassegno eures significa quelle offerte di lavoro che trovate con il contrassegno eures sono quelle che sono state comunque valutate e visionate e approvate da un consulente eures italiano o straniero questo perché è importante perché può succedere ovviamente in questo il mondo e paese può succedere che ci siano ogni tanto delle forzature a volte anche delle truffe succede purtroppo molte volte noi cerchiamo di essere più possibile attenti ma in alcune case proprio anche noi sfuggono per cui dobbiamo fare attenzione la prima indicazione che io do sempre al riguardo è quella di nel momento in cui vi arrivano i candidati per un'offerta di lavoro e vi arriva la richiesta di fare un bonifico dare dei soldi perché devi fare permesso di lavoro questo succede soprattutto in svizzera o piuttosto per iscrizione voi non fate nulla cioè non pagate niente eventualmente ci chiamate chiamate consulente eures e di riferimento e noi possiamo in qualche modo venirvi in conto andiamo a vedere se effettivamente ci sono delle particolarità e cose del genere però fate attenzione questa è una cosa curiosa che deriva che viene da solo con l'ultimo aggiornamento è possibile fare una ricerca puntando semplicemente la proprio e la vostra frecciolina su una regione su un land su un cantone o appunto su una regione italiana praticamente potete cliccare lì e dire ok voglio vedere tutte le offerte di lavoro di quel determinato di quella determinata area di quel determinato paese quindi un qualcosa in più tutto quello che qui viene mostrato voi lo riceverete quindi sarà registrato quindi il video sarà a vostra disposizione per cui nel caso poi ci possiamo risentire e senza problemi allora questo qui invece il target mobility scheme è un progetto nuovo allora che andrà a sostituire a partire da maggio your first your job e reactivate che erano due programmi che servivano e potevano essere utili per chiunque volesse andare a lavorare all'estero e volesse avere qualche benefit economico al riguardo quindi tutte le cose poteva essere dal viaggio al una sorta di indennità di tirocinio piuttosto che altre cose non solo la partecipazione a un corso di formazione di lingua quindi una serie di informazioni interessante non sto molto a parlarne proprio perché è un progetto che è già presente a livello di sul sito di eures ma non è ancora non è ancora operativamente attivo quindi su quello bisognerà aspettare a maggio quindi da quel punto di vista se avete l'interesse vi può servire avere avere qualche informazione in più su questi benefit in caso di viaggio all'estero è possibile già vederli però dal punto di vista operativo sarà sarà possibile saranno tra virgolette disponibili solo da da maggio ok aspettando un attimo che adesso vado avanti perché una ricerca personale per vedere dove c'erano dove ci sono quali sono i posti di lavoro trovati e come vedete ci possono essere delle opportunità in questo caso ho provato a mettere su una parola tipo cameriere piuttosto che un altro con la lingua inglese e il contrassegno io ho cercato di mixare di mettere insieme tre possibili requisiti nella ricerca e praticamente come potete vedere ne ho trovati addirittura già 370 con questo tipo di criteri e praticamente su cipro per esempio è una nazione dove si possa per darvi un esempio di come funziona la ricerca in in sul portale di eures sono andato a vedere tutti i campi quindi seasonal jobs sono andato a vedere per esempio inserito servizi di alloggio e di ristorazione come macro settore ho inserito il contrassegno aires come vedete potete trovare circa 2096 posti vacanti in questo caso sono presenti come vedete in svezia sono presenti in irlanda in austria in germania quindi qualcosa c'è è chiaro che poi bisogna andare nello specifico sono andato a vedere un'offerta di lavoro se non ricordo male dovrebbe essere in germania o in austria e no grazie quindi in austria e praticamente mi serviva per dar per far vedere un po cliccando dentro nell'offerta cosa 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 c'è quali sono le caratteristiche descrizioni ma soprattutto è interessante sulla destra voi potete notare la voce offerta in tedesco perché ovviamente molte delle offerte di lavoro che derivano dagli altri paesi sono fatte nella loro lingua il che non vuol dire che in alcuni casi per forza è necessario avere quella lingua cioè finché il tedesco o l'inglese o il francese è chiaro che ognuno di noi può averlo fatto a livello scolastico o a livello universitario è chiaro quando si va sul fin sul finlandese sul norvegese che sono lingue molto difficili è praticamente impossibile che qualcuno la conosca se non per propria passione o per altri motivi in questo caso comunque è possibile avere la traduzione in italiano o nella lingua in cui si ha avuto accesso al portale eures questa soluzione che permette appunto di fare una traduzione in tutte le lingue della comunità europea è possibile solo nel momento in cui voi decidiate di entrare nel portare di scrivervi cioè se vi scrivete inserite i vostri dati create il vostro cv vostro curriculum c'è la possibilità appunto che ci sia una traduzione qualora le offerte di lavoro sia in una lingua diversa che voi non conoscete da quello una volta fatta la traduzione possibile comunque candidarsi ne ho trovata una per pizzaioli tramite il canale facebook di eures italy quindi come vedete molto recente in questo caso stanno cercando le pizzaioli a carlstad nella svezia centrale quindi anche qui ci sono tutte le informazioni c'è il sito e addirittura c'è una cv una lettera di presentazione arne abison che è un nostro collega dei centri per l'impiego svedesi quindi quando voi andate sul sito di eures e trovate delle offerte di lavoro interessanti e vedete un indirizzo mail senza alcun problema mandate la vostra candidatura tranquillamente avete la possibilità di inserire il vostro curriculum avete la possibilità di inserirlo in diverse versioni linguistiche mi era capitato a volte vedere un profilo di circa che aveva a me inserito sei versioni in sei lingue differenti e vi permette in questo caso di essere brutto dirlo ma è così in vetrina quindi avete la possibilità di dire ok come vedete visualizzazione del datore di lavoro voi potete fare in modo che sia visibile dal datore di lavoro che sono anche loro iscritti ad eures non tutti i datori di lavoro possono vedere i cv ma sono quelli che sono iscritti e quindi essere mettermi in vetrina e quindi farvi notare lo so delle condizioni di vita e lavoro la mappa dell'europa vederla così fa un certo effetto proprio perché manca un'isola e sembra che sia negata sia affondata però la realtà è questa quindi anche l'irlanda ha una forma un po particolare però la realtà è questa queste informazioni per esempio soprattutto le living and working conditions sono potete trovare sotto una finestra che ho tenuto ben visibile voi avete la possibilità qui di vedere il tipi di contratto tipologie contrattuali le categorie i disabili piuttosto che il lavoro autonomo il pagamenti i salari e l'orario di lavoro in quel paese quindi tutte le informazioni possibili immaginabili tenete presente che queste informazioni sono informazioni che voi ricevete che qui sono segnate e che vengono direttamente dai ministeri del lavoro di quei paesi quindi sono informazioni ufficiali questo io lo dico sempre perché comunque su internet voi potete trovare davvero tantissime informazioni su social su blog su altri canali in alcuni casi sono molto interessanti per non permettono di avere delle esperienze di vita quindi possono essere anche più facili da capire rispetto a una annotazione a una procedura più burocratica in altri casi fate comunque attenzione perché c'è il rischio che non siano corrette non siano non dico legali ma comunque non siano complete mentre qui effettivamente trovate tutte le informazioni tutte quelle che sono le caratteristiche del discorso della sanità le assicurazioni coperture assicurative i family benefici veramente veramente potete trovare davvero di tutto che uno dice vabbè vado a fare un lavoro stagionale a malta per due mesi cosa mi interessa in realtà può essere sempre utile comunque informarsi quello che io raccomando è comunque prima voi fate se volete una ricerca delle migliori offerte di lavoro in un determinato settore con una determinata conoscenza linguistica eccetera e cercate di capire cosa vi può interessare poi in un secondo momento andate a vedere quelle che sono le condizioni di vita di lavoro in quel paese le condizioni covid le chat sono non sono presenti previste per tutti i paesi però c'è quella italiana c'è quella norvegese c'è quella spagnola c'è quella lituana c'è quella estone danese ce ne sono un portogallo tantissimo mi sembra che ci sia anche malta e normalmente al venerdì mattina loro fanno delle chat a cui si può partecipare semplicemente usando la tastiera quindi utilizzando come se fosse una chat su whatsapp cosa di questo genere oppure si può anche fare una video chat oppure utilizzando il microfono fare sentire solo una sorta di telefonata perché è usato il solito elefante nella stanza perché ovviamente anche noi come consulenti EURES noi lavoriamo all'interno dei centri per l'impiego e in alcuni casi i centri per l'impiego possono essere chiusi possono possiamo essere smart working per cui come tale non sempre è possibile garantire con la connessione di casa come come avete visto prima nel mio caso possiamo garantire questo queste chat però ci proviamo quindi voi potete cliccare nei giorni stabiliti e trovare una serie di informazioni direttamente dai consulenti esteri ovviamente la lingua maggiormente parlata riguardo è l'inglese oppure se andate in Francia potrebbe essere il francese però con l'inglese si riesce a parlare un po' dappertutto approfitto di questa cosa per dire che ovviamente l'inglese è un buonissimo passepartout per andare in tutta Europa anzi nell'ambito del lavoro stagionale può capitare molto spesso che voi vi candidiate per delle offerte di lavoro in un paese che ne so dico tenerife dico palma di maiorca dico cipro dico la grecia dove magari non è fondamentale sapere la lingua del posto quindi lo spagnolo piuttosto che il greco eccetera ma è più importante sapere la lingua dei turisti quindi in questo caso il tedesco tenerife piuttosto che forteventura sono isole dove si va a fare villeggiatura le vacanze tutto l'anno anche l'inverno anche in in a natale capodanno perché le temperature sono sempre molto miti però ci vanno soprattutto inglesi tedeschi russi e quindi come tale può essere richiesto che una persona uno di voi decida ad andare perché conosce il russo magari conosce pochissimo lo spagnolo però conosce il russo è chiaro che poi potrebbe esserci qualche problema di come dire socializzazione però bisogna pensare anche questa cosa ovviamente dal punto di vista delle delle conoscenze linguistiche come ha detto l'inglese può andar bene io tendenzialmente consiglio sempre alle persone di andare con un inglese b2 non deve essere certificato però deve essere un inglese che vi permette di parlare normalmente fare una conversazione perché è molto importante da un punto di vista come detto lavorativo ma anche da soprattutto un punto di vista sociale perché se poi andate in un paese a fare straniero a lavorare ma poi non riuscite a connettervi con la realtà che vi sta attorno diventa più difficile diventa più faticoso magari poi si si tende a dire no vabbè preferisco tornare a casa perché non riesco a sono qua da solo quindi attento è un sito importante che sta sempre prendendo più piede è lo european job days online questo è un sito che è nato inizialmente perché tra le funzioni dei consulenti EURES la prima è proprio quella di oltre a fare colloqui o fare attività come sto facendo adesso comunque di organizzare delle fiere del lavoro queste fiere del lavoro queste job fair praticamente in presenza sono fiere che poi finiscono per essere molto dedicate molto legate al territorio dove vengono fatte e quindi si era deciso di la comunità europea di creare questo sito per creare delle fiere online ovviamente questa cosa dallo scorso anno è diventata ancora più importante perché fiere in presenza assolutamente no per carità di dio altrimenti finiamo tutti male e quindi in sostanza sono state create queste fiere online che stanno prendendo sempre più piede sono molto utili sono molto belle in molti casi proprio ce n'è una proprio nei prossimi giorni che lavorare in danimarca dove si sono ci sono tutto lo scorso anno quindi this is the summer with EURES 2020 una fiera a cui avevo che avevo organizzato a cui ho partecipato anch'io nell'organizzazione 4 marzo 2020 quando ancora era fattibile e voi pensate che in questa fiera si parlava solo ed esclusivamente di lavoro stagionale ovviamente quest'anno non è stata fatta per gli ovvi motivi perché avremmo messo dentro delle offerte di la parte avremmo messo dentro poche offerte di lavoro ma comunque non sapendo poi come si sviluppava il tutto non era il caso di farla però è una fiera che ha avuto un grandissimo successo vedi anche qui l'elefante nella stanza perché ovviamente è una fiera che ha un fatto che facevamo ormai da quattro anni ed è arrivato l'elefante nella stanza a ruinarci tutto e quindi quest'anno non è stato possibile fatto che per esempio ci sia questa fiera quella in belgio dedicata al turismo e al settore alberghiero si terrà il 23 marzo del 2021 ovviamente poi le offerte di lavoro e le possibilità lavorativi e i contratti lavoro partiranno da maggio da giugno questo si tratta di vedere però secondo me ci sono alcune offerte ve ne ho segnate solo due non si vede benissimo quella in basso a destra è un receptionist quella quella sinistra in alto è un animatore dell'infanzia un animatore turistico per per l'infanzia come vedete trovate tutte le informazioni quello che le aziende richiedono e poi ci sono anche eventualmente i contatti quindi se voi potete tranquillamente collegarvi a questo sito ovviamente dovete registrarvi prima come job seekers quindi come persona che cerca lavoro e quello in prima va fatto prima o meno almeno un giorno prima entrare e poi vedere le offerte di lavoro di alcuni aspetti particolari le aziende stesse si presentano con dei video quindi sono fatti piuttosto bene addirittura nel pomeriggio della giornata è quasi sempre una giornata c'è la possibilità di fare dei colloqui dei colloqui online o comunque di prenotarsi per poter parlare direttamente con le aziende chiaro che in italia non abbiamo purtroppo delle connessioni internet notevole anzi siamo in fondo alla classifica ci battono tutti però secondo me anche solo dal punto di vista di avere la possibilità di parlare con un responsabile poi magari fissare un nuovo appuntamento in un altro giorno è una cosa che comunque fa piacere e secondo me può essere utile altra fiera che si farà all'8 aprile dedicato al lavoro in slovenia per chi è abita vicino al confine con la slovenia anche qui ci sono di tutto l'aspetto relativo al turismo e al discorso alberghiero e nei tre paesi scandinavi in cui in questo momento la situazione tranne forse un po la svezia comunque stanno andando abbastanza bene in finlandia e norvegia c'è appunto tutto il discorso dell'oreca quindi del dell'alberghiero del turismo del turismo dove ci possono essere delle buone offerte di lavoro e in questo momento norvegia e svezia e finlandia stanno cercando parecchio anche lì si tratta di vedere se ci fanno entrare perché ovviamente per esempio la norvegia fino a poco tempo fa proibiva comunque impediva molto l'ingresso di italiani per gli ovvi motivi ora vedo comunque tanto per continuare le slide che metto su normalmente sono slide abbastanza che danno un bel po di informazione proprio a livello di immagini quindi anche quello può può aiutare anche se si perde la mia la mia voce ho voluto inserire due tre slide relativo a quelli che sono i lavori stagionali in alcuni paesi c'è quello della francia seasonal jobs la nefa che è molto bello vi permette di avere delle belle offerte di lavoro nell'ambito dell'agricoltura ha fatto benissimo un aspetto relativo al lavoro stagionale il lavoro stagionale l'imposto sul reddito cioè il fatto che nel momento in cui questo vi può interessare relativamente ma sicuramente al vostro al commercialista che vi va a 7 30 potrebbe essere importante c'è il fatto nel momento in cui voi andate all'estero lavorare per meno di sei mesi il domicilio fiscale rimane nel paese di residenza quindi in sostanza pagate solo le tasse sullo stipendio qui abbiamo tutti i siti nazionali per la ricerca di lavoro o alcuni di essi quindi pold emploa il portale olandese il portale eccetera ecco un'ultimissima cosa che volevo segnalarvi effettivamente sto notando anch'io che la connessione un po ballerina però ci proviamo è il discorso del curriculum vite allora una delle cose importanti una delle priorità secondo me in questo momento in cui state provando a vedere se vi può interessare un lavoro stagionale l'estero oltre a vedere quali sono le migliori offerte di lavoro e dove si possono trovare queste migliori offerte di lavoro e ovviamente anche quello di creare un buon curriculum quindi la priorità che io do che vi consiglio prima di tutto di creare un bel curriculum vite perché nel momento in cui poi dovesse capitarvi qualche buona offerta di lavoro e avete un curriculum così fatto così all'avventura magari lo mandate sapendo che non verrà assolutamente accolto perché fatto male e quindi vi mangerete le mani uno degli aspetti importanti è il discorso della lingua cioè va tradotto bene in curriculum vita altrimenti il rischio è veramente quello che non riusciate a farvi capire tra l'altro esistono diversi formati di curriculum vite c'è l'euro pass che sicuramente è un è un ottimo curriculum vite che viene utilizzato indicativamente soprattutto nei paesi continentali quindi questo è un esempio di curriculum vite in inglese su quello allora sicuramente molti di voi avranno fatto magari dei corsi o sarà stato spiegato un po come funziona nel curriculum e quali sono le caratteristiche da mettere una delle cose che io maggiormente richiedo e secondo me inter è importante quello come dice qua il come si vede dal curriculum vita in inghilterra è il discorso del profile cioè quello comunque di creare ed è presente anche sull'euro pass due quattro cinque righe in cui spiegate esattamente chi siete cosa volete fare perché avete mandato il curriculum soprattutto per persone che non hanno mai avuto magari esperienze di lavoro importanti o comunque di durata di qualche anno può essere utile magari utilizzare questo profilo queste quattro cinque righe per poter in sostanza descrivere se stessi un po cosa avviene come avviene anche nella rete rappresentazione che all'estero viene molto utilizzata e necessaria comunque anche livello di curriculum può essere utile quello di definire magari le proprie competenze le proprie soft skills le competenze trasversali che in alcuni casi possono essere molto più importanti rispetto a quelle che sono magari le le esperienze professionali questo è un curriculum vitae che sta andando un po per la maggiore a me piace moltissimo in italia ma anche in francia perché permette di inserire tutti i vostri dati all'interno di una sola pagina quindi risolve anche il problema della sintesi che di si dice non deve essere mai più lungo di due pagine non è secondo me l'importanza nella lunghezza delle due pagine ma cosa ci mettete dentro ultimissima cosa che volevo farvi vedere è il discorso relativa alle keywords ho fatto un po questa questa schermata di esempio che stanno diventando sempre più importante perché perché comunque come avete visto dal sito di euris e come avete visto se andate su qualunque sito che vi permette di vedere le offerte di lavoro tutta l'attività viene svolta tramite parole chiave il cosiddetto ats che è una sorta di monitoraggio delle parole chiave quindi diventa importante nel momento in cui voi fate un buon curriculum di inserire delle parole chiave che permettono di rendere il vostro curriculum appetibile sia da un software da un gestionale informatico che va a catturare quello che la parola chiave che più interessa sia nel momento in cui lo vede un responsabile del del personale allora diventa ancora importante ancora più importante che il responsabile veda subito a livello di keywords di parole chiave quello che voi avete da da come per esempio ripetiamo qui carica eccolo qui le le skills perché sta diventando sempre più importante in europa ma un po nel mondo cioè non solo avere esperienze professionali ma sapere avere delle capacità tipo il problem solving piuttosto che la creatività piuttosto che la capacità di organizzare e di gestire il personale tutte queste queste top six skills nel 2020 venivano utilizzate erano quelle più interessanti che vengono utilizzate nelle selezioni personale per esempio in ibm piuttosto che google piuttosto che apple eccetera allora c'è qualche io nel frattempo ho cercato di rispondere alle domande che ci arrivavano all'interno della della chat spero di aver risposto in maniera corretta insomma se tu vedi le domande magari è intanto ti chiedo se mi puoi condividere ecco poi mi riprendo lo lo schermo insomma se tu vedi alcune domande magari se vuoi rispondere tu direttamente insomma tipo ok per esempio qualcuno dice se questi lavori vanno anche per i sono usufruibili o sono accessibili anche minorenni numero uno e poi c'è il discorso qualcuno più di una persona non ho chiesto se insomma se le persone che non hanno la cittadinanza italiana ma la residenza in italia possono usufruire di queste insomma di queste opportunità tanto rispondiamo che ho visto anche il tuo la tua risposta sì allora su questo sul discorso del permesso di soggiorno allora è chiaro che eures lavora ed è comunque più facile trovare lavoro nel momento in cui sia la cittadinanza di uno dei paesi della comunità europea è molto più semplice ci sono meno problemi e tutto le offerte di lavoro possono comunque essere a disposizione comunque a disposizione anche di persone che non hanno la cittadinanza quindi hanno permesso di soggiorno poi che il permesso di soggiorno che una in italia possa essere utilizzato un altro paese quello dipende dal paese tendenzialmente da quello che so no però in sostanza conviene anche perché bisogna guardare non solamente il discorso del permesso di soggiorno ma un po anche quello che può essere il decreto flussi da utilizzare per quel paese dove si sta dove si vuole andare a lavorare quindi su quello io poi magari consiglio mentre una persona trova un'offerta di lavoro quello di vedere di andare a parlare non sono un'ambasciata in un consolato di un altro paese per avere maggiori per avere maggiori informazioni perfetto poi per quanto riguarda i minorenni invece per quanto riguarda i minorenni cosa allora tendenzialmente io difficile difficile tanto per dirti per esempio anche a livello di animatori turistici so che la maggior parte delle agenzie preferisce dai 18 anni in su per un discorso generale per un discorso assicurativo o di altre cose gli stessi tutti gli stessi programmi che per esempio abbiamo il nuovo tms che sostituisce your first your job parte dai 18 anni quindi tendenzialmente sono minorenne vedo la situazione come molto molto rischiosa e secondo me no la vedo molto molto difficile a questo punto di vista diciamo che ci sono da quel punto di vista altre forme per poter andare a lei sono qui sguardo più che altro le vacanze studio cose di questo genere ma per offerte di lavoro tendenzialmente bisogna avere la la maggior età invece queste offerte di lavoro sono rivolte solo esclusivamente a persone con esperi con già delle esperienze di lavoro o insomma ci sono anche delle possibilità anche per i più giovani diciamo che non hanno delle grosse esperienze di lavoro o delle esperienze di lavoro insomma particolari o secondo me su questo allora su questo torniamo un po quello che dicevamo sulle soft skills e le skills precedenti cioè il fatto che sul lavoro stagionale può essere più utile a volte avere magari delle delle buone capacità di dialogo di contatto col pubblico piuttosto che esperienze professionali precedenti quindi non è necessario cioè è chiaro che se tu vai a lavorare nel settore medico vai a fare l'ingegnere ti candidi come ingegnere per un lavoro in svezia è chiaro che lì l'esperienza deve avere punto però sul lavoro stagionale secondo me dipende molto anche dalle proprie caratteristiche personali per quello infatti dico che nel curriculum vitae secondo me vale la pena di inserirlo perché possono avere quel valore aggiunto lo stesso europass che è stato rivoluzionato da circa un anno un anno e mezzo al portafoglio tutto un discorso legato alle competenze che può essere molto ben utilizzato anche da questo punto di vista quindi assolutamente può anche non essere necessario avere una grande esperienza lavorativa quindi ribadiamo ancora una volta insomma oggi le offerte di cui abbiamo parlato oggi sono delle vere e proprie offerte di lavoro il portale eures è il portale europeo dedicato al lavoro quindi queste offerte di lavoro vengono pubblicate continuamente quindi se siete interessati insomma a cercare un lavoro per la prossima estate dovete monitorare quelle che sono le offerte presenti all'interno del portale eures quindi in questo caso non parliamo di volontariato chi fosse interessato insomma le opportunità di volontariato può visitare il sito di euro desk e lì ci sono tutta una serie di di informazioni anche e soprattutto sul portale dei giovani punto punto it lì avete delle vere e proprie opportunità di di volontariato quindi per fare la ricerca all'interno del portale euro eures potete utilizzare come parola chiave seasonal work o lavoro stagionale correggimi se sbaglio fabrizio assolutamente quindi visitate il il portale il portale eures con in maniera più assidua a partire da da questo da questo periodo fabrizio grazie grazie ancora ciao ciao ciao